Auschwitz. Più di un milione di persone sono morte in questo campo di sterminio nazista. In occasione del 75esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento, i sopravvissuti continuano a raccontare la loro storia e a testimoniare. Paul Sobol afferma di rivivere l'orrore di questa tragedia attraverso gli occhi degli altri. Penso soprattutto a coloro della mia famiglia che sono scomparsi, perché sa, io non sono nemmeno riuscito ad abbracciare mia madre. Nell'inverno del 1944 i nazisti ordinarono l'evacuazione dei campi. I prigionieri ebrei dovettero lasciare Auschwitz per raggiungere la Germania a piedi. Gli storici parlano di marce della morte. Agli ufficiali fu ordinato di uccidere coloro che non riuscivano a camminare. Ma il calvario è continuato anche dopo per Paul, caricato di nuovo su un treno. Eravamo in cento, centodieci in un vagone, stavamo in piedi, stretti l'uno con l'altro. Non sapevamo per quanto tempo saremmo rimasti. Alla fine siamo rimasti in questi vagoni per sei giorni. Quando i treni si sono fermati definitivamente e hanno aperto le porte, eravamo sopravvissuti in venti, massimo venticinque. Paul Sobol è riuscito a sopravvivere grazie a un oggetto. Quando fu arrestato nel giugno del 1944 a Bruxelles, la sua fidanzata gli diede un pacchetto con del cibo e con una foto. E lui riuscì a conservare l'immagine di quella che sarebbe diventata sua moglie. L'ho piegata in otto parti e l'ho tenuta nel pugno destro perché dovevamo restare nudi, lasciare tutti i nostri abiti civili e poi entrare in un edificio dove ci avrebbero trasformato in detenuti. Paul Sobol mantiene viva la memoria. Incontra spesso gli studenti delle scuole superiori per condividere la sua testimonianza. Il giorno della commemorazione dell'Olocausto sarà Ginevra con le Nazioni Unite prima di continuare il suo viaggio in Germania.